Ciao a tutti ragazzi sono Luca29 e benvenuti in questo nuovo episodio della serie su Uncharted Dricks Fortune come vedete sono già impegnato parecchio che cazzo però però io vi ho aiutato dai non mi rompe di coglioni lascio vivere voi voi lasciate vivere me no cazzo uh perché se ne vanno non è primo ma perché non pensate a uccidere loro stronsi e vabbè ma vi mettete lì in gruppo cazzo ho finito tutto aia non l'ho preso mai c'è ancora è però un mostro senza munizio eh ma io non ho munizioni signore pronto ok ora qualcosina ho cazzo no munizioni instant l'ho preso cazzo oh si vabbè con un pugno mi ha ucciso mi ha ucciso con un pugno che coglioni no difficilotta questa parte cazzo ma mi ha ucciso con un pugno cazzo 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 però uccidete lì c'è oh oh me sa che c'è una granata vabbè ma se io vi do una mano o mi perdonate però pensate a loro dai che cazzo no come non l'ho preso eh al culo questa l'ho fatta proprio grossa allora andiamoci abbastanza lentamente questo non è male questo m3 eh devo dirlo cazzo ma non vuoto oh ma questo è vivo però siete anche un po' strozzi eh io la mano ve la do merda cosa mi riparo io spero che qui non salga merda merda certo sicuro un po' di riposo mi prego c'è una mandria ok quello è morto anche abbastanza facilità io ho di nuovo questo io vorrei aspettare un attimo di usare cazzo levati coglione non ti salverai eh vabbè io me ne dormo un attimo qui però tu muorici maledetto monte stronzo è morto è morto e ora dedichiamoci agli umani che hanno rotto un po' i coli ma vi ridete no eh ma ti avevo fatto un bel headshot che mi sa che c'è il casco degli stronzi eh e ti ho preso pensavo vabbè ma con l'armatura che hai allora lì allora qui c'è quello lì con il laser ce l'ho sottotiro vaffanculo cazzo dobbiamo stare attenti quale rumore eh che palle però ce n'è un altro non l'ho mai visto è morto no perché naturalmente qui ti azzoppi le persone ma non crevano mai ok minimo un po' di vita glielo abbiamo qui c'è quello stronzo con laser che cazzo non un headshot così però si certo bene ragazzi ci vediamo dopo quando riuscirò ad andare avanti a dopo ok ragazzi allora è gambizzato quello allora qui c'è lo stronzo con laser che però secondo me conviene evitare tanto chi me lo fa fare di ucciderlo giù eh certo ucciderlo sarebbe meglio colpetto alla volta eh ma non creva mai non ci dobbiamo stare è morto me sa se ok ok quando dice ok mi piace troppo perché vuol dire che abbiamo fatto no no cazzo no così non puoi così è proprio a tradimento ma come tu cazzo dove andate dove sono gli altri qui devo sicuramente andare lì eh c'è un motivo perché qui c'è un fucile di precisione credo vabbè regoliamo dai ecco dai cazzo levati la comodità di quest'arma è che con due colpi crepano il problema è che non ho più munizioni però se è finita la musica diciamo che dovremmo stare a posto ecco allora se dobbiamo entrare qui direi che siamo abbastanza fottuti ok mamma mia la grafica è cambiata in soccorso ok magari cambia mi andrà grazie a dio lei dove sei vengo da te hanno preso Elena dobbiamo fermarli ho problemi di mio questi bastardi mi hanno bloccato fuori dalla chiesa non è vero perché lui coraggio sta ancora in chiesa e qui dove sono vabbè qui palesemente ci sarà uno scontro vabbè che finché ah qui siamo di nuovo nella chiesa oh mio dio qui ci ci siamo diventati vecchi qua eccoli almeno però qui ho la certezza almeno che non ci siano mostri perché qui erano solo due insomma lo prendo perché tanto eccolo sally come va accidenti oh mio dio ma qui siamo e vai è durato molto questo scontro allora giochiamocela meglio perché da quello che ho capito allora qui dobbiamo liberare sally e ok l'abbiamo fatto poi però ci sono questi simpaticissimi cecchini che sono alquanto stronzi certo dov'è che posso ripararmi se posso se naturalmente posso vorrei prenderlo no cazzo che palle dov'è lo stronzo quello l'avevo ucciso ah eccolo cazzo ma è difficile perché devo andarci un po' a suoni mazzate qui sally ma quello l'ho ucciso sparandogli a una gamba cioè ecco allora dove siete perché non uscite maledetti ecco guardate quanti quanti cazzo sono ok quello non c'è lo zio è morto subito eh cazzo però eh maledizione o si si ad una vita relativamente corta questo l'avevo acciottato quindi riesco a capire perché non è morto allora qui dai venite fuori ecco eccoli ma sono quattro diciamo che questa volta però il maledetto cazzo però quant'è stronzo vabbè ma muori subito però ha una vita molto perché non c'è l'armatura stronzo diciamo che l'ho mutilato quello brachianco sali ti salverò sì ma io non ho munizioni ma questo l'ho ok ho finito io pronto ecco ma io ho finito allora qui c'è il fottuto cicchino che però riuscirò mai a prendere a cazzo dov'è maledetto ma ma quanto è stronzo questo gioco quanto è stronzo che cos'è mo perché mi che cos'è che è successo ah in pratica mi ha muorici malissimo eh vabbè almeno ci ha salvato non so come però dai vieni fuori è qui eh però c'è quello che ci mi ha sciocca subito giù muorici male però e crepa oh è morto poi chi è l'altro stronzo eh leva di sali però magari leva di proprio ci ha ucciso in due la perfezione spara per uccidere la perfezione di ok quello subito uuuuh headshot sei morto sei morto non sai che è anche te no guardate quanto è stronzo ti vieni in forma vedo faccia no cazzo ma eh va bene cioè un po' non ho rivari eh non so se riusciremo a ripetere questo così tranquillamente saldo ripeto cos'è successo no stava lì ho proprio completamente sbagliato luogo guardate quanto si rifugia anche lo scavo ma è morto no come muore quello è morto si cazzo che liscio è questo però te lo bitch qui via subito via subito ok e qua ci muori perchè te lo meriti tutto l'altro merita di morire vabbè pratica oltre a me assalli tutti ma vabbè pure c'è ok credo stiamo venuti non so come ma la statua ha distrutto la colonia e ucciso tutti i tedeschi si tranquillo però non c'è tempo dobbiamo raggiungere la chiesa non è successo niente però diciamo che sarei felice aspettate mi vado un po' rifarmi qualche munizione perchè qui se no siamo messi maluccio da munizioni buono m4 mi prendo la m4 questo che c'ha un'altra ovvio oh munizioni per la m4 ok dove andiamo di bello qui m6 adesire questa porta di legno imponente vediamo un po' si ma noi ci siamo andati qua però no mai ma siamo nella chiesa che palle questi maledetti e quello l'ho l'ho ucciso 20 cecchini ci sono dai sali però se mi aiutassi te ne sarei grato ecco dai ok è morto anche l'altro ma io non ho non muore dov'è quello che spano eccolo è morto subito quello ce n'è un altro però ecco bene non abbiamo più una mazza non è morto come c'è chi mi ci dono 20 cazzo che rischio non muore mai mi ha sparato tutto grazie solite sempre ti aiuto eh vedo che te la chiami non male allora qui dai eh e mo voglio vedere mo siamo alla pari cazzo come mi ha one shottato però noi abbiamo 30 di pistola almeno dai mi muore subito ci sono un'armatura che fa invidia a non è morto non è morto c'è sta a terra sta a terra non è morto c'è sta a terra mi hai preso sempre che palle questi quanto mi stanno sui foglio ma c'è un fucile qui poi ricaira subito oh e quello è morto che palle questi mi stanno proprio rompendo i coglioni nel fuoco è morto subito oh è morto qualcuno è morto che cazzo devi morire malissimo no 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 sally ti prego sally perché sei così crudele che crudeltà questo qui serve non te merita minchia questo questo signore qui perché non uccide nessuno devo fare tutto io vedete mi sia normale questa cosa allora ora mi prendo subito il fucile li voglio subito uccidere perché mi hanno veramente rotti i coglioni ok ecco si è molto più facile così è molto più diciamo fattibile la cosa ce n'è un altro ma sally che ha deciso io non ho parole non ho parole quello che sta facendo il mio amico sally allora l'ultima volta poi taglio semmai perché non so neanche più da quanta che registro ormai tutte le incazzature che sto prendendo perché non è possibile che io mi accompagno praticamente è inudile ma voglio totalmente perché non fa un cazzo ok è morto ed è morto ok ok è morto guardate guardate come si muove io no è morto è morto però sally è ancora l'audio vuol dire che c'è ancora qualcuno io c'è sì certo che palle però cazzo ma cosa hanno di armi cioè mi fanno un fottino di vita mi levano è morto mai proprio non è morto mai ok non è morto posso morire cazzo va bene taglio perché questa parte è talmente bastarda che più non si può e ci rivediamo dopo a dopo ok ragazzi mi sono messo insieme a sally sono solo un po' curioso di capire quest'uomo che cosa fa ovviamente lui non si muove perché tanto questo fatto che lui non può morire ma io sì un'altra cazzata e vabbè ma io non so più che fare oltre a incazzarmi totalmente perché questi non cremano guardate guardate ho finito tutto si io lancio rano questa è andata ottima proprio ottima solo che non ho munizioni io io ci vado di prepotenza tipo quanti sono allora cazzo no merda morto fa ridere la quantità allora ne 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 sono rimasti due e io ho due munizioni ma proprio due potrei a terra maledetto la sto prendendo con il personaggio ok grande muoviti ok è morto è morto è morto ok se Sally si muove lo prendo come sono finiti non ci credo io io stento a crederci io stento a crederci oh ecco no perché se no qui mi ingazzavo parecchio è morto ma io non ho un riparo Sally ovviamente già si è fregato il suo bel riparo cazzo vabbè Sally ovviamente non si è neanche graffiato morto io ovviamente sto facendo tutto il lago di Sally è morto ce n'è uno io ci vado di prepotenza ma proprio male non ce n'è mai rimasto uno mai proprio ma se l'abbiamo ah ecco no perché l'abbiamo aperto noi si però io ho bisogno di armi cioè non ha più che armi munizioni no sta qui Sally il passaggio se non sbaglio no è chiuso e devo di nuovo sparare aspetta no però dice sotto l'altare quindi qui dobbiamo spostarlo ah ma so desidero eh beh sotto cielo certo non so catacomme sono bene ragazzi io direi che per questo episodio è tutto noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti